Un cordiale saluto cari amici ascoltatori di Radio Lemine, benvenuti a questa nuova puntata di Radio Lemine Notizie, oggi il 27 di marzo, io sono Marco Cangelli, stiamo ormai concludendo il terzo mese dell'anno, ma soprattutto ci stiamo avvicinando sempre di più alla settimana santa, perché lo sapete, ieri è stata la quarta domenica di quaresima, se non ricordo male, adesso andiamo a ricontrollare quinta domenica, scusate, di quaresima, per cui ci stiamo avvicinando alla domenica delle palme, all'ingresso di Gesù in Gerusalemme e poi tutta la settimana che ci accompagnerà la Pasqua, è probabilmente il periodo più difficile, più intenso, più complicato se vogliamo dell'intero anno liturgico per un fedele, obiettivamente, questo perché ci accompagna, ci avviciniamo al venerdì santo, alla morte di Gesù, ma al tempo stesso non dobbiamo dimenticare che quello poi ci accompagnerà quello che è il mistero della risurrezione, per cui è fondamentale pensare, riflettere in queste settimane che ci accompagnano poi alla Santa Pasqua, al momento di rinascita, di risurrezione, di ritorno della vita, però ora ci avviciniamo a quello che è appunto la fine, la conclusione, quello che purtroppo spesso e volentieri viviamo e a volte mi verrebbe da dire pensiamo anche, perché è brutto tante volte nascondere quello che accade alle persone e far finta come che non succeda, purtroppo capita di persone che hanno dovuto abbandonare, hanno voluto abbandonare il dono più grande che il Signore ci dà, che è la loro vita, o hanno pensato di farlo, poi fortunatamente appunto non facendo, ma questo non significa che deve esserci uno stigma ecco nei loro confronti, la sofferenza purtroppo è tanta, il Signore è sempre presente anche al loro fianco e non li abbandonerà nonostante queste cose sicuramente, perché? Perché Gesù è dato sulla croce, è morto per noi, ha sofferto per noi, vive la sofferenza e comprende la sofferenza di queste persone che a volte il peso purtroppo diventa troppo elevato e come ogni cristiano è anche vero, effettivamente ci si domanda certe volte dove sia il nostro Signore, dove sia Dio, ma quello che c'è da domandarsi è se forse tante volte siamo noi che siamo distanti da Lui. Perché forse in questa domanda? Perché effettivamente la situazione di abbandono, di solitudine che viviamo, la paura di essere soli, di essere lasciati soli, tante volte ci affligge e ci porta poi a fare questi pensieri che dicevamo, che sono terribili, che non bisognerebbe nemmeno mai pensare effettivamente perché non c'è il dono più bello della vita, se non quello appunto che c'è stato Gesù che poi la possibilità della vita eterna successivamente, dopo appunto quello che è la morte. Però in questo momento siamo qui, abbiamo un dono bellissimo che dobbiamo vivere e viverlo appieno perché magari i momenti brutti, i momenti più difficili sono poi quelli che precedono semplicemente un momento più felice, gioioso, allegro. E cosa perderemmo se ci fermassimo lì? Probabilmente tantissimo, quindi è fondamentale cercare di impreziosire e ringraziare per il dono che ci è stato dato della vita, che non è un dono scontato come tante volte ci rendiamo conto. Ed è giusto cercare Dio nel momento della difficoltà, non solo nel momento della difficoltà ricordarcelo perché lui è sempre presente e non essere distanti tolto quello. Quello sicuramente non bisogna esserlo perché altrimenti sarebbe un grave errore. Però pensare, cercare di chiedere conforto in lui, chiedere un aiuto, lui che è sempre presente e interrogarlo come la vera preghiera? Assolutamente sì, perché è quello che deve fare il cristiano, interrogare e interrogarsi. Ripetere il rosario, le litanie così senza pensare tutto, non ha molto senso. Così come Dio, ricordiamocelo, non è il genio della lampada che chiedendo una richiesta a un mago ce la concede come se fosse nulla o così. Non funziona così, non è quella la fede, quello dobbiamo ricordarcelo assolutamente. Però è fondamentale ricordarci che lui nei momenti più difficili c'è. Per quanto noi ci possiamo sentire soli, abbandonati, lasciati al nostro destino da parte degli altri, lui è sempre presente. E per cui dobbiamo cercare di stargli più vicino possibile, cercare di non allontanarci da Dio, ma seguire la sua strada, rimanerle lì. E farlo ancora di più nel corso di questa settimana, che poi, ripetisco la settimana santa, settimana del mistero della morte e della risurrezione di Dio, di Gesù Cristo. Quindi, veramente, pensiamo, riflettiamo le sofferenze che ha vissuto Gesù. Pensiamo a quella croce. Ognuno di noi ha una croce, se vogliamo, da portare. Però sappiamo che poi dopo c'è la felicità, c'è la gioia, c'è la rinascita. E non dimentichiamocelo. Nei momenti più difficili, quando il tempo non passa. Pensiamo a quello. Pensiamo che comunque, prima o poi, arriva la gioia, arriva la felicità. Che le cose peggiori finiscono. In qualsiasi maniera finiscono. E anche se siamo le persone più sole su questa terra, non saremo mai abbandonati. Perché qualcuno ci sarà sempre e sarà sempre lì che ci aspetta. E sarà sempre lì che è il nostro fianco. Per cui non sentiamoci abbandonati e soli. Anche nel momento in cui tutte le persone ci lasciano. E soprattutto cerchiamo di non aver paura di essere soli. Perché non siamo comunque, in qualsiasi caso, da soli. Detto questo, vi dico adesso gli appuntamenti che ci sono in questa settimana, che poi ci avvicina appunto alla Domenica delle Palme. Quindi sarà molto intensa, se vogliamo. Ricca di appuntamenti. Quelli, come sapete, appunto, tradizionali. Trovate sul foglietto, sul nostro sito vparrocchiasb.it, in bacheca. Potete poi riascoltare e rivedere le nostre puntate sul sito della parrocchia, sul canale YouTube, dove potete vederci anche in diretta sulla pagina Facebook di Radio Lemine, ovviamente. Per cui parto con gli appuntamenti questa settimana, a partire da oggi, che è le 20.30, nella Canonica, in corso la riunione dell'Azione Cattolica Adulti. Ci ha preceduto, come tutte le sere di qui fino appunto alla fine della Quaresima, la preghiera con i nostri sacerdoti. E poi appunto in corso, come state ascoltando e vedendo Radio Lemine Notizie. domani, martedì 28 di marzo, c'è l'incontro 17.30 per la Sagra Patronale, con la raccolta delle proposte all'interno della Casa Parrocchiale. Si svolgerà. E poi c'è l'incontro sempre a Casa Parrocchiale le 20.30 per i volontari della Settimana della Cultura, che sarà la settimana che va dal 17 al 24 di aprile, con una serie di appuntamenti che poi vi spiegheremo meglio. mercoledì 29, la Via Crucis in Albenza alle ore 20.30, l'Oscuotale e Cascine alle 20.30, c'è l'incontro in oratorio per ragazze a prima comunione alle 15.30 alle 17, la Catechesi alle 20.30 e la Via Crucis al Cimitero appunto alle 20.30. Siamo in Cascine, ma in realtà è al Cimitero nel ricordo appunto poi dei nostri defunti. E come non ricordare purtroppo la Via Crucis che venne svolta nel 2021 al Cimitero, il ricordo dei morti dalla pandemia da Covid. Non possiamo dimenticarci quelle immagini terrificanti, terribili, perché eravamo ancora bloccati, ancora fermi a causa di questo nemico terribile che forse non abbiamo ancora vinto del tutto, ma che adesso sappiamo perlomeno forse in parte gestire. Però quella sofferenza appunto prima di solitudine si riporta a quelle immagini del cimitero appunto a Via Crucis del 2021, così come quell'anno precedente, ancora peggio, dove purtroppo eravamo serrati in casa e la statua del Cristo morto portata in giro proprio per dare un sollievo alle persone che eravamo chiusi in casa nel dubbio, senza una prospettiva, purtroppo. Proseguendo, giovedì c'è il Buongiorno Gesù con i ragazzi delle medie alle ore 7, dell'elementare 7.40, ovviamente preghiera con la colazione in oratorio, per gli adolescenti incontro alle 20.30, mentre per la festa in oratorio c'è l'incontro sempre in oratorio alle 21 per i responsabili. Alle 20.45 invece qui su Radio Lemine ci sarà poi certezza che è la Catechesi di Don Dario Mazzoleni. Venerdì 31 la Via Crucis è in parrocchia alle ore 17 con l'adorazione, alle 6.30 invece del mattino c'è la Santa Messa alle Cascine, la Via Crucis con la Comunione invece alle ore 20 in Albenza. Ricordiamo che alle 20.30 ci sarà l'incontro per gli animatori adolescenti in oratorio e poi ci sarà anche la Lezzo Divina sulla Passione sempre alla sera, trasmessa qui su Radio Lemine. È in distribuzione, inoltre chiedo conferma Riccardo che è il regia, che è il direttore, il bollettino parrocchiale mi conferma di sì, per cui da venerdì ci sarà il bollettino parrocchiale per il mese di aprile, per cui troverete anche quello, perché è proprio sabato, inizia il mese di aprile, le confessioni come al solito alle 9, alle 11, dalle 15 alle 16.30 in parrocchia e dalle 10 in poi in longa. Domenica ci sono le catechesi e le confessioni per i ragazzi del catechismo alle 15 e alle 17.45 in oratorio, inoltre c'è il percorso per i fidanzati in preparazione e matrimonio in oratorio alle 20.30. Domenica ci sono, iniziano una serie di confessioni, perché? Perché appunto andiamo a settimana santa, perché confessioni dalle ore 16 fino alle 18 immagino, è la Domenica delle Palme, per cui a precedere la Santa Messa delle ore 10.30 ci sarà il corteo in oratorio alle 10.15 che parte appunto parte dall'oratorio, mentre in Albenza alle 9.30 parte il corteo dal campo sportivo verso la chiesa di San Rocco. Inoltre ci sono le catechesi alle ore 9, sempre in oratorio, e c'è la giornata insieme ai bambini, alle famiglie dei bambini della prima confessione. Per il pellegrinaggio a Međugorje invece dal 19 al 24 di giugno, potete chiedere informazioni e adesioni, il prima possibile perché era in trappunto fino a marzo, quindi a breve si chiudono le adesioni all'interno, in parrocchio, potete chiedere. Settimana prossima, lunedì in San Rocco alle 20.30, martedì invece nella chiesa di San Bartolomeo con Via Cruce si è messa alle ore 15 e alle 20.30, c'è le confessioni per gli adolescenti e i giovani, mentre mercoledì saranno alle cascine, per cui una serie di confessioni poi inizia il giovedì santo e tutto il triduo che ci accompagna alla Santa Pasqua. Ovviamente tutte le varie eventi e varie celebrazioni che si svolgono qui all'interno della chiesa parrocchiale le potete ascoltare poi in diretta su Radio Lemine. Io non posso fra altro che in anticipo augurarvi una buona settimana santa, perché io di settimana prossima non ci vedremo, la prossima lunedì 3 ci sarà in confidenza con Don Giulio, ma noi ci rivediamo il 10 di aprile, per cui ci rivediamo il giorno del lunedì dell'angelo probabilmente. Posso fra altro che augurarvi quindi anche una buona Pasqua di Ressurrezione e ricordatevi non siete mai soli, c'è sempre il nostro Signore che ci aiuta e che è sempre vicino a noi, quindi non dimenticatelo mai. Un caloroso saluto a tutti. Grazie a tutti.